la caccia di radice di tarassaco si allora ingredienti ingredienti vabbè la zappa per estrarre la radice una cassetta per metterci ecco qua la radice ecco l'altra radice ecco l'altra radice ecco l'altra radice questa è pezza si deve trovare vabbè qua l'intanto l'ho trovato queste cose ne stanno troppo quando stanno ammassate le radice non c'è problema ecco questa è più piccola devo trovare le radice quindi sull'apro allora qui c'è problema ecco qui non lo so sbagliato allora abbiamo radici e foglie questo buono radici e foglie radici e foglie ecco qui allora vedete la radice questa è buona fresca ma soprattutto la metto a essiccare e si mangia si mangiano anche le foglie quindi il prodotto è pronto la zappa la riporta a posto è sempre buona per guadagnarci il pane bisogna sempre sappare esatto a proposito qui abbiamo un bel manto d'erba vedete guarda quanto tarassaco c'è c'è molto tarassaco vedete tutto tarassaco poi abbiamo l'erba medica senti che pesca che piacere guarda il vento qua giro giro ne trovo da roba ecco l'erba medica ecco l'altro tarassaco vedete pieno pieno di tarassaco tarassaco è tutta santa